Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi nuova puntata delle migliori farm della settimana, quindi anche oggi vediamo una bella overview. Vi spoilerò subito che sarà un bel po' incentrata sulla blockchain di Harmony, non tanto perché le pool migliori sono solamente sulla blockchain Harmony, ma perché ci sono dei progetti veramente interessanti, ve li voglio un attimo fare vedere. Detto questo, partiamo subito. Iniziamo con SushiSwap su blockchain Cielo, ve ne ho parlato anche nell'ultimo video, ma rimane al momento un ottimo posto dove mettere a rendita le proprie stablecoin. Ancora c'è sempre la coppia CUSD DAI con un buon 52% e la coppia CUSDC EUR con un buon 60%. Tra l'altro vi faccio notare che sono APR questi, quindi non viene calcolato l'effetto compound. Infatti vi faccio notare che se andiamo su Autopharm, che ha integrato da poco la blockchain Cielo e che sostanzialmente è uno yield optimizer, quindi va a fare autocompound per noi, si possono vedere quelli che sono gli APY, sulla coppia CUSDC EUR arriva all'80%, sulla coppia CUSD DAI quasi al 70%, quindi comunque ottimi interessi. Poi non è detto che sia la cosa giusta andare ad utilizzare Autopharm, anche perché in blockchain molto economiche come Cielo può essere comunque conveniente fare l'harvest manualmente e quindi evitare le fee comunque che ci sono su Autopharm, però se uno non vuole sbattimenti e vuole che faccia tutto da solo, allora mette qui su Autopharm, chiaramente si prende un rischio in più perché c'è anche il rischio di Autopharm, ma almeno la piattaforma fa autocompound. Passando a blockchain Moonriver, che ho citato anche la volta scorsa, faccio notare ancora una volta che le stesse pool di Solar Beam sono ancora ottime perché offrono dei buoni API, vi faccio vedere la pool DAI USDC, siamo al 44% e anche qui sono APR, quindi non viene considerato l'effetto compound, ma ancora una volta, così come era la volta scorsa, vedete le pool interessanti sono MyUSDC, 54%, dove vi ricordo My è la stablecoin erogata da My.finance, quindi per chi vuole approfondire può andare direttamente sul loro sito, molto nello stile di MIM, per intenderci, e poi c'è anche la pool MIMUSDC che rende il 41%. Poi in realtà su Solar Beam, che è l'exchange principale di Moonriver, se uno vuole esporsi all'ecosistema ci sono delle altre pool interessanti, come appunto Solar Move, dove Solar è proprio il token di Solar Beam, che rende un 405%, però qui parliamo di una cosa diversa, e va fatto solo se siete bullish sull'ecosistema Moonriver, che a mio avviso è interessante, ma bisogna prestare più attenzione, il rischio è più elevato, c'è in Permanent Loss e c'è anche il fatto che questi token possono cadere a zero. Sempre su Moonriver, ma una farm nuova, che la volta scorsa non vi avevo fatto vedere, è Huckleberry, che su DeFi Lama ha scalato un bel po' le classifiche, quindi ha aumentato un bel po' i su TVL, che vedete attualmente è sui 17-18 milioni di dollari, e la cosa interessante è che ha la pool, fatemela trovare, USDC-USDT, che va a offrire il 51% di APR. Ovviamente questo viene pagato in FIN, che è il token proprietario, e poi chiaramente può essere venduto, eventualmente si può fare anche qui compound in automatico. Devo dire che la grafica è quasi difficile da comprendere, quindi sulla grafica avrei qualcosa da dire su questa piattaforma, non ha un TVL altissimo, però ve la volevo segnalare, molto interessante. Tra l'altro, sempre parlando di auto compounding, lo stesso Autofarm, che ho citato prima per la blockchain Cielo, è disponibile anche su Moonriver, e vi faccio notare che ci sono le stesse pool, quindi quelle di Solar Beam che vi dicevo prima, semplicemente viene fatto l'auto compound, e quindi qua ci mostra già l'APY, quindi vedete, quando si parlava di USDC Mimatic, qua ci mostra un 85% di APY, USDC Meme 61%. Ecco, su Autofarm al momento è presente solo Solar Beam, quindi non si può sfruttare Huckleberry su Autofarm. Blockchain Phantom, non posso che citare ancora una volta, abracadabra, ci ho anche fatto un tutorial dettagliato, il problema purtroppo rimane che al momento i memes da poter prendere a prestito sono praticamente quasi del tutto esauriti, vi conviene seguire il loro Discord perché ogni tanto fanno i cosiddetti replenish, ma vengono quasi subito esauriti, quindi bisogna essere proprio veloci a prendere in prestito meme, ok? La piattaforma che non vi avevo fatto vedere la volta scorsa, sempre su Phantom, è Tarot.to. Qui alziamo un pochino il livello di rischio, nel senso che stiamo parlando di un protocollo un po' meno sicuro, in quanto non tanto è stato hackerato, ma comunque ha una storia minore e non ha una community così grande come magari ha quella di abracadabra. Ma è interessante perché Tarot in realtà è un'applicazione di leverage farming, ma la cosa interessante è che chi vuole fare leverage farming lo può fare, quindi può fare le follie con la leva, io non lo consiglio, chi invece vuole rimanere un pochino più con i piedi per terra, può sfruttare diciamo le persone che vogliono fare leva per fare la cosiddetta supply, quindi vedete che potete mettere in supply anche soltanto uno dei due dei token della coppia, ad esempio vedete questa qui, FUSDT Phantom, voi potete andare a inserire solo Phantom senza esporvi a un permanent loss e il supply APR vedete che è del 34%, quindi niente male. Ovviamente potete vedere quali altri pool ci sono, vedete che anche qui il USDC vi dà il 45%. Ecco, qui gli APY sono un pochino più alti, ma attenzione sempre che stiamo alzando un po' il rischio, quindi è ovvio che la piattaforma meno conosciuta ha un po' meno liquidità, anche se comunque ci sono 230 milioni in TVL e quindi rischio più elevato, guadagno anche un pochino più elevato. E qui ragazzi vi voglio fare vedere Blockchain Avalanche Wonderland, non tanto per spiegarvi quello che è Wonderland ma per farvi vedere quanto è figo questo logo, cioè veramente bellissimo, hanno rifatto il look del sito completamente in black. Allora vi devo dire la verità su Wonderland, adesso non voglio spiegarvi come funziona, magari ci farò un video a parte. A me non convince al 100%, detto questo per chi vuole veramente fare una giocata ad altissimo livello di rischio e ad altissima speculazione, l'APY è fuori di testa, cioè 68.000% di APY, se vi fate i calcoli anche se il token fa tipo meno 90%, probabilmente ci guadagnate lo stesso, per farvi capire a che livelli di APY stiamo parlando. Io però vi dico la verità, non ci ho messo nulla, non mi convince del 100%, quindi preferisco diciamo starne al di fuori, almeno per ora, però ve lo volevo far vedere il logo è fuori di testa e Daniele sta veramente creando una community gigantesca. In queste cose la community ha veramente una rilevanza importante, quindi probabilmente anche grazie a quello che stanno avendo tutto questo successo. Sempre su Blockchain Avalanche c'è il classico Trader Joe, che da questa settimana è entrato a far parte del programma di incentivi Avalanche Rush e infatti vedete che qua in alto sono evidenziate le quattro farm che usufruiscono di questo bonus e quindi vedete che gli APR sono belli alti proprio perché si guadagna sia Joe che Avax. Chiaramente qui non stiamo parlando di stablecoin, quindi bisogna farlo se consci, se vi piacciono entrambi i token della coppia. E sempre su Trader Joe, ve lo avevo fatto vedere anche l'altra volta, c'è la piattaforma di lending, un cosiddetto money market, dove hanno aggiunto MIM che al momento rende circa il 25%, però attenzione perché è stato veramente aggiunta oggi questa cosa qui, al momento ci sono già 27 milioni di MIM depositati, se si aggiungeranno altri MIM questo andrà a calare e magari potrebbe portarsi al livello o un pochino di più delle altre stable che stanno più o meno tra il 9 e il 10. In realtà tenete presente che bisogna guardare sia il deposito APY che il rewards APR, nel senso che la piattaforma va ad incentivare il deposito, quindi questo è quello che si guadagna grazie ai meccanismi di money market e quest'altra colonna, la reward, è quello che invece la piattaforma proprio ci incentiva e ci paga ulteriormente, quindi su MIM stiamo parlando in realtà di un 33% al momento. Detto questo ragazzi passiamo su Blockchain Harmony. Vi farò vedere un po' di progetti relativi a questa blockchain, non mi soffermerò troppo sul singolo progetto perché magari se vi interessa lasciatemi qua un commento che possiamo approfondirne qualcuno, ma penso che ci siano veramente delle buone occasioni su questa blockchain. Innanzitutto vi faccio vedere Artemis Protocol, non è un exchange decentralizzato, ma è una piattaforma, potremmo definirlo un classico farm, quindi una classica farm, un pochino più innovativa, nel senso che poi ha il suo Artemis Pad, che in realtà vedete ancora deve essere lanciato, e poi ha, vedete, un po' di gamification, quindi con una lotteria. Al momento comunque, ed è quello che vi volevo far vedere, se andate su Earn Elysium, troviamo le vere e proprie farm, e interessante direi che è la USDC-UST, tra l'altro vi faccio notare che c'è USD perché c'è il bridge ufficiale, quello terra.bridge proprio che permette di brigiare su Harmony, e che attualmente rende il 97%, quindi ottimo, perché stiamo parlando di due stablecoin, uno USDC e USDC brigiata su Blockchain Harmony, ovviamente vengono pagati in token MIS, che è il token principale di Artemis. Altra farm che vi voglio fare vedere, ma questo è veramente un livello più grande, è Farmers Only, che è sia una farm che un autocompounder, quindi uno yield optimizer, nel particolare questo, quindi la sezione volts, è relativa allo yield optimizer, e vi faccio vedere che infatti se scendo, trovo proprio USDC di Artemis, però viene fatto autocompound, e quindi vedete che vedo già un 163% in autocompound. Mentre esiste anche la sezione farms, di Farmers Only, dove veniamo ricompensati proprio nel loro token proprietario, che è FOX, e la cosa che a me non fa impazzire, è che sulle farm dove non c'è FOX, vi è una deposit fee, a me la deposit fee non piace troppo, quindi non sono incentivato a depositare dove ci sono deposit fee. Comunque ve la volevo far vedere, secondo me la sezione farm non è tanto interessante, rischio altissimo, più che altro magari la sezione volts, anche se, devo dirvi la verità, piuttosto che fare autocompound su Harmony, preferirei fare da solo, sempre per il fatto che costa poco utilizzare la blockchain Harmony. Non si può non citare curve su Harmony, anche se al momento non ha delle APY enormi, perché la vedete la triple sta al 17%, più o meno, però penso che approveranno prima o poi anche il token CRV come rewards sulla blockchain Harmony. al momento non c'è, quindi al momento rende circa il 17%, che sicuramente non fa schifo, ma rispetto a quello che magari abbiamo visto prima si poteva fare un po' meglio. Sempre parlando di yield optimizer, oltre a farmer's holy c'è anche il classicissimo Bifi Finance, quindi piuttosto se volete utilizzare magari un autocompounder, andate su Bifi, che è più sicuro perché è veramente storico, è ovunque Bifi Finance, e vedete ci sono le pool che dicevamo prima, per esempio c'è questa qui, uno USDT, uno USDC, ecco non ve lo faccio vedere, ma c'è anche SushiSwap su Harmony One, con degli incentivi in atto. L'unico contro di Bifi Finance è che ha solo Sushi, perché si espone poco sulle piattaforme proprietarie di Bifi Finance. E poi ragazzi, il progetto veramente più interessante, secondo me è questo, che è DeFi Kingdoms. Purtroppo in questo momento che stavo registrando, ovviamente mi ha scollegato dall'account, e non sono riuscito ad entrarci, quindi vi faccio vedere quella che è la home page, ma in realtà nel momento in cui fate il profilo, pagate la prima transazione, stiamo parlando di centesimi, veramente forse millesimi di euro, e poi vi fa entrare, e è il primo exchange decentralizzato su Harmony, vi faccio vedere su DeFi Lama, se andiamo su Blockchain Harmony, c'è DeFi Kingdoms, che ha 206 milioni di liquidità, e poi ci sono tutti gli altri, quindi c'è una dominance del 55%, che non è poco, quindi veramente dominante rispetto agli altri, ma l'aspetto più interessante di DeFi Kingdoms è la gamification, loro hanno creato un exchange decentralizzato, quindi un classico exchange decentralizzato, nulla di nuovo, ma anziché fare la classica piattaforma, anche interfaccia grafica scopiazzata alla Pancake Swap, perché poi diciamocelo, bene o male hanno preso tutti poi ispirazione da lui, o da Uniswap, hanno creato un gioco, e in realtà il loro obiettivo di lungo termine, e questo lo si può andare a vedere proprio leggendo la documentazione, è creare un enorme use case per il loro token, che è Jewel, lo vediamo anche qui, Jewel, eccolo qua, perché? Perché oltre ad essere il token proprietario dell'exchange decentralizzato della piattaforma, e quindi essere quel token che viene farmato, è anche il token che avrà l'uso maggiore all'interno del gioco, infatti esistono già gli Heroes, che sono degli NFT sostanzialmente, ma piano piano, e qui si può andare a vedere la roadmap, vedete, attualmente siamo arrivati alla 2.0, stiamo per arrivare alla 3.0, piano piano esisteranno i regni, quindi molto stile The Sandbox, dove ci saranno i terreni, che sarà possibile acquistare, e sui quali si potranno costruire altre cose, poi ci saranno gli equipaggiamenti che possono essere dati agli Heroes, questi Heroes possono andare a lavorare, è proprio un gioco, quindi qui poi se a uno piace il gioco può anche divertirsi semplicemente, anzi, magari leggetevi la documentazione perché se il gioco vi intriga è veramente figo. Qui volevo farvi vedere semplicemente una cosa relativa alla tokenomics, ed è il fatto che non è specificato bene la percentuale, devo fare ancora qualche calcolo, ma qui in certo senso dice che ogni transazione ha comunque una tassa, parte di questa va a quella che loro chiamano bank, che cos'è la bank, sostanzialmente tu puoi mettere in stake Jewel, ricevere X Jewel, che è un po' come X Sushi, cioè riceve le commissioni della piattaforma. Una parte poi della transazione viene data, vedete, nel gioco, all'interno del Community Treasury, e che quindi poi viene ritornata ai giocatori attraverso le quests, le quests sono sostanzialmente delle attività quotidiane che è possibile svolgere all'interno del gioco e che ti permettono di guadagnare dei Jewel, e alcuni, quindi sempre per una every Jewel transaction, cioè ogni transazione fatta con Jewel, vedete, viene anche data al development cost, cioè sostanzialmente per mantenere il team di sviluppo. Quindi non ho ancora capito con che percentuale, ma c'è una tassa su ogni transazione che viene fatta con Jewel, proprio per andare a distribuire tutte queste cose qui. Tra l'altro c'è un hard cap, vedete, 500 milioni di token e premintati 10 milioni, suddivisi in questo modo, poi se volete approfondire ve lo guardate, vi faccio vedere anche il prezzo, perché attualmente è a 5 dollari e 20, ma attenzione, cioè non è che dovete fare all-in soltanto perché ve ne ho parlato, anche perché tenete a mente che ha già fatto un 5 per da quando è stato lanciato, quindi lanciarsi in un all-in in un progetto che ha già fatto 5 per potrebbe essere una cosa intelligente nel momento in cui cresce, ma poi potrebbe anche non crescere, uno si ritrova incastrato. attenzione a mettere subito in farming i token su Defy Kingdoms, perché dovete essere consci del meccanismo di lock di rilascio del token Jewel, quindi se volete farlo, leggetevi bene come funziona la tokenomics, qui nella sezione issuance schedule è ben spiegato come funziona, quindi leggetevelo bene, in questo modo non ci rimanete quando poi magari voi fate l'harvest e vedete che una parte di quelli che avete fatto l'harvest è lockata magari per uno o due anni, quindi guardatelo bene. Volevo comunque farvi vedere un po' gli APY, quindi non ho preso il sito ufficiale ma ho preso vfat.tools che per chi non lo conosce è un sito che ti permette di vedere comunque tutti gli LP token, tutti gli APY e tra l'altro anche di inserire e mettere la liquidità, utilissimo, ve lo consiglio. E vedete che Jewel Wrapped One attualmente rende il 1400%, quindi veramente tanto, ma vi ricordo attenzione perché le reward sono sottoposte a dei locked, quindi attenzione a farlo a caso. Questo ha senso nel momento in cui una volta fatte le vostre ricerche pensate di andare bullish sull'ecosistema, questa farm è bullish sia su Harmony One che su Jewel e rende anche il 1400%. Tra l'altro ho trovato questo Excel che magari vi condivido in descrizione che vi spiega veramente tutte le cose legate al gioco, perché nel gioco appunto vi dicevo ci sono gli Heroes, ma gli Heroes hanno delle classi molto in stile Axie Infinity, è stato secondo me molto ispirato anche da quello, quindi io poi non sono un giocatore dopo un po' mi stanco anche di approfondirlo, ma in realtà andrebbe fatto, quindi questo ve lo lascio così lo potete vedere e studiarvelo bene voi. Ultimo e chiudo, se interessati veramente in The Five Kingdoms vi consiglio questo video, è una live proprio con i team di The Five Kingdoms, fatto tra l'altro da Phantom Alerts, e questo vuol dire che ovviamente sbarcheranno anche su Phantom, quindi molto interessante, vedete ve lo dura 40 minuti, ma sono ben spesi se vi interessa il progetto. L'ultima cosa veramente, e poi ci salutiamo, che vi voglio dire è, se avete provato a fare un prelievo da un exchange del token Harmony, vi renderete conto che nel momento in cui provate ad inserire il vostro indirizzo di Metamask, lui vi dirà che non vuole quello, che la rete non coincide con la rete di Harmony. Questo perché in realtà Binance, Kucoin o comunque gli exchange vogliono un indirizzo che inizi con One, Per fare la conversione è molto semplice, ve lo faccio vedere, voi andate su Metamask, vi copiate l'indirizzo, che è poi l'effettivo indirizzo con cui andrete a interagire con le piattaforme, aprite l'explorer, questo qui è l'explorer di Harmony, copiate il vostro indirizzo, e vedete che nell'esatto momento in cui io l'ho incollato, lui in realtà mi ha aperto questa pagina, e mi ha messo qui, address, vedete, questo indirizzo qui, questo indirizzo qui è l'indirizzo complementare legato al mio indirizzo EVM compatibile, quindi quando volete ritirare da un exchange dovete utilizzare questo indirizzo, e tranquilli che senza fare nulla vi comparirà anche sull'indirizzo Metamask correlato, se avete paura fate sempre una prova piccola, magari con 4-5 euro, e poi fate il prelievo magari importante. Detto questo ragazzi io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!